Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, piena divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti così spiriti più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sopra una regina, te mi affida finché guidi i miei passi nel regno del Buore Divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio finché faccia vita perenne. Nella Divina Volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori. Nel silenzio del cuore la preghiera aiuterà a donarmi con amore per il regno che verrà. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori. Questo tempo è per voi, senza di voi mio figlio non potrà realizzare sulla terra la sua volontà. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori. 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 Che bel regno che sarà, regno di luce, di ricchezze infinite, regno di perfetta santità e di dominio. I figli nostri di questo regno saranno tutti re e regine, saranno tutti appartenenti alla famiglia reale. Racchiuderanno in loro tutta la creazione, avranno le similitudini, la fisionomia del nostro Padre Celeste. E perciò saranno il compimento della nostra gioia, della nostra gloria e la corona del nostro Capo. Volume 20, 10 novembre 1926. Il regno del Fiat si chiamerà pure il regno della Vergine. La mia mamma celeste fu la prima che occupò il primo posto nel cielo come figlia del Supremo Volere. E siccome fu la prima, tiene intorno a sé il posto per tutti i figli del Fiat Supremo. Sicché intorno alla regina del cielo si vedono tanti posti vuoti che non possono essere occupati da altri se non dalle sue copie. E siccome fu lei la prima della generazione della mia volontà, il regno del Fiat si chiamerà pure il regno della Vergine. O come in questi figli nostri, prosegue Gesù, si riconoscerà la sovranità su tutta la creazione. Perché essi, in virtù della mia volontà, godranno vincoli indissolubili con tutte le cose create. Saranno in continui rapporti di comunicazione con esse. Saranno i veri figli in cui l'eterno Creatore si sentirà onorato, glorificato di averli per figli. Perché riconosceranno in loro la loro volontà divina operante, che ha riprodotto le sue vere immagini. Figlio mio, figlio del mio materno cuore, dice Gesù, dice la Vergine al suo figlio divino, nel volume 34, 10 febbraio 1937. Tu mi hai costituita regina e madre, ma dov'è il mio popolo? I miei figli dove sono? Se fossi capace di soffrire, io sarei la regina e la madre più infelice. Perché pur possedendo il regno, io sono priva di sudditi, che vivono della stessa volontà di cui io vivo. In chi mi sarà dato di trovare le gioie della mia maternità, se non ho i figli in cui poter affidare la mia grande eredità? Fa che regni presto il fiat divino, perché la tua mamma si sentirà felice appieno soltanto quando avrà il suo popolo e la sua figliolanza, viventi come lei della tua volontà. Credi tu, figlia mia, chiede Gesù a Luisa e ad ognuno di noi, che io possa rimanere indifferente a questa accorata preghiera della madre mia che continuamente risuona il mio orecchio, dolcemente si insinua nel mio cuore e lo ferisce come freccia d'amore? No, né lo posso, né lo voglio. Da che ella non mi negò mai nulla di quanto le chiesi, come potrei opporle un rifiuto? Il mio stesso cuore mi spinge ad accontentarla. Per incoraggiarti ad unire le tue e le nostre brame, voglio che ti rivolga la parola stessa, che ti rivolga la parola alla stessa mamma mia, figlia del mio materno cuore. Il regno della divina volontà sarà infallibilmente il regno mio, poiché a me lo affidò la Trinità Sacrosanta, così come mi affidò il Verbo Eterno allorquando gli discesse sulla terra. Ora con i miei sospiri ardenti e con le mie preghiere incessanti, ed ora con il mio amore di madre e con i miei diritti di regina, io prendo d'assalto la Trinità Santissima, affinché questo regno veda la luce e trionfi nel mondo. Questi miei sospiri mi bruciano talmente, prosegue la dolce madre, da sentirmi come se in realtà non avessi gloria, mentre ne ho tanta che cielo e terra ne sono ripieni. Perciò se non vengo formato il regno della divina volontà in mezzo ai figli miei, non sarò appieno felice, solo allora sarò tale, quando essi vivranno in questo regno, perché ognuno allora mi raddoppierà la gloria che ora già possiedo. Chiamando perciò gli uomini continuamente al mio cuore, io vado ripetendo loro, figli miei venite alla mamma vostra, amatemi come io vi amo. Se voi non vivrete quella medesima volontà di cui vissi io stessa, non potrete offrirmi amore di veri figli, né vi sarà possibile conoscere fin dove giunga il mio amore per voi. Immagina mia diletta che l'ardente brama che ho di questo regno mi spinge a discendere dal cielo e a visitare tutte le anime quando trovo un cuore disposto a vivere di volontà divina, io penetro in esso e divi formo la mia dimora per preparare con decoro e con amore il posto al fiat divino che a sua volta prenderà possesso dell'anima e formere in essa la propria vita. Per raggiungere questo intento io mi renderò inseparabile dai figli miei, metterò a loro disposizione come un muro insormontabile di fortezza la mia vita, il mio amore, le mie virtù e i mie dolori, affinché si possano trovare nella madre loro tutti gli aiuti di cui abbisognano per vivere in questo regno così santo. Allora il mio gaudio sarà completo, il mio amore si riposerà nelle creature, la mia maternitrato troverà in esse il vero affetto filiale. Mettendo in festa cielo e terra farò tutte da regina e spanderò ovunque grazie inaudite e sorprendenti. Figlia di Letta ci invita la celeste madre, rimani sempre strettamente unita alla mamma tua per invocare ed anelare incessantemente con lei il regno della volontà divina. Ora la mamma celeste, dice Gesù, vuole, desidera, aspetta il regno della volontà divina sulla terra nella quale ci saranno le anime che vivendo in esso formeranno la vita nel primo atto di Dio, le quali acquisteranno la regalità e il diritto di regine. Si vedrà da tutti impresso in loro un carattere incancellabile che sono figlie del re divino e come figlie l'aspetta il titolo e il diritto di regine. Queste anime terranno la loro dimora nella regia divina, perciò acquisteranno nobiltà di modi, di opere, di passi, di parole. Possederanno tale scienza che nessuno le potrà eguagliare. saranno investite di tale luce che la luce stessa non sierà a tutti, che è la regina che ha vissuto nella regia della mia volontà. Onde la regina sovrana non sarà più sola nel suo reggio trono, avrà le altre regine che la circonderanno, la sua bellezza rifletterà in esse, la sua gloria e grandezza troverà in chi può traversarsi. Oh, come si sentirà onorata e glorificata! Perciò desidera chi vuole vivere nel fiat divino per formarsi le regine nell'atto primo di esso, per poter avere nella patria celeste il seguito delle altre regine che la circonderanno e le daranno gli onori a lei dovute. Bene, ripercorriamo questi scritti dove oggi abbiamo visto particolarmente rifugere e brillare la presenza della regina celeste. Il light motive un po' di questa meditazione è questa. Questa regina perfettamente felice e beata per la vita perfettissima nella divina volontà che ha fatto come dire, si sente ha usato espressioni analoghe a questa certamente secondo il nostro modo di parlare un po' sola, un po' infelice perché abbiamo ascoltato in alcuni stralci ci sono dei posti vuoti vicino a lei non ci sono anime a lei simili sue copie, dice Gesù che possano condividere la sua stessa gioia e la sua stessa gloria. Anche noi esseri umani oggi poi sui social networks vediamo queste operazioni fatte in maniera spesse volte insomma imprudente e disordinata però sappiamo che in quanto esseri umani quando abbiamo una grande gioia viviamo una bellissima cosa sentiamo il bisogno di condividere share, si dice in inglese condividi, condividi, condividi ecco la sapienza poi della vita cristiana insegna che non tutto si può condividere non tutto si deve rendere pubblico e soprattutto non con tutti si può condividere tutto dobbiamo selezionare molto spesso con molta prudenza e attenzione insomma i destinatari delle nostre condivisioni però adesso non non si tratta di meditare su questo ma si tratta di comprendere come la felicità desidera essere condivisa con altri non rimanere in se stessa è quasi un'esigenza perché se uno ha scoperto una cosa meravigliosa bellissima o ha vissuto una cosa bellissima desidera che anche altri lo facciano ecco e quindi questo è condiviso dalla dalla Madonna questo stato d'animo fino al punto che lei lo sospira sospira questo regno divino sulla terra per avere le sue copie la Madonna cerca le sue copie e noi potremmo farci una nostra meditazione un po' allo stato attuale specialmente i devoti alla Madonna quanto oggi allo stato attuale assomiglio alla Madonna quanto ne sono la copia c'è un passaggio verso la fine della meditazione molto molto bello dice che queste anime acquisteranno nobiltà di modi di opere di passi di parole qui si potrebbe terminare la meditazione soltanto su questo rigo nobiltà di modi di opere di passi di parole i modi che modi abbiamo noi in tutto modi di trattare con Dio per esempio come trattiamo noi con Dio ci abbiamo mai pensato come trattava per esempio la Madonna con Dio come pregava come si rivolgeva all'altissimo con che tipo di compostezza come il modo rappresenta il come come la Madonna trattava il prossimo come trattava San Giuseppe come trattava Gesù come trattava le persone che incontrava quali erano i modi nobili di Maria oggi viviamo in un contesto socio-culturale dove se c'è proprio una cosa inguardabile sono i modi proprio inqualificabili che circolano tra le beceri anche in Chiesa e anche nei rapporti con l'Altissimo una Chiesa trasformata in mercato quando uno entra in Chiesa non capisce che sta dentro una Chiesa quella non è casa sua quella è casa dell'Altissimo ci si sta in un certo modo dentro casa dell'Altissimo si sta in silenzio dentro casa dell'Altissimo non si sta come cafoni che entrano lì dentro cominciano a strillare a parlare senza neanche salutare il padrone di casa o se una Chiesa d'Arte comincia ad andare in giro a fare clic clic a guardare in giro dappertutto cose che sono state fatte in onore dell'Altissimo questo non dimentichiamo le opere d'Arte che stanno nelle Chiese sono frutto dell'ingegno degli autori offerto al Signore certo le creature ne godono di sponda ma non sono mica state fatte per noi sono state fatte per Gesù in suo onore come attestazione e ad omaggio come arte che viene messa a servizio di colui che la espira e che la suscita che modi hanno le persone dei nostri tempi e anche noi non è che ci dobbiamo puntare il dito chiediamoci che modo abbiamo di parlare per esempio che tipo di linguaggio abbiamo ci sporchiamo la bocca col turpiloquio che deve essere assolutamente bandito dai figli di Dio e dai figli di Maria non si dia mai ascolto a tentativi grossolani e veramente inconcepibili di giustificare in nessun modo il turpiloquio il turpiloquio è letami è sterco quindi è sulla bocca dei figli di Dio di Maria il turpiloquio non c'è questa è una grossolanità ma la nobiltà di parola non è solo evitare le cose grossolane cioè le parolacce le bestemmie tanto per dirlo in termini sbrigativi ma è il tono della voce che abbiamo e come ci rivolgiamo al prossimo la gentilezza il garbo chiedere sempre le cose per piacere dire grazie e non lo so interessarsi del prossimo gratificare una persona quando ha fatto una cosa bella dire una cosa gentile mostrare interessi per i problemi del prossimo questa è la prima cosa che mi vengono un pochino in mente no? quanti esami di coscienza che potremmo fare solo su questo no? attenzione nobiltà di passi pochi sanno io siamo nel mese di maggio il mese della Madonna io penso sempre al grande maestro Mariano che è San Luigi Maria Monforto che tra l'altro la festa ricorre due giorni prima dell'inizio del mese di maggio perché il 28 aprile è la festa liturgica di San Luigi nei suoi scritti San Luigi parla anche di come si cammina di come si sta seduti cose che oggi noi non ci pensiamo nemmeno lontanissimamente ma per esempio per la scetica antica per esempio camminare troppo velocemente era una mancanza alla modestia quindi si cammina né come le lumache né troppo velocemente ma c'è un incedere un procedere nobile proviamo un attimo a guardare le camminate delle persone no? come cammina una persona che è superba che è tronfia si vede dal modo di camminare che è superba se uno fa attenzione si vede benissimo una persona che è mite ed umile si vede dal modo di camminare una persona che magari è complessata c'è qualche complesso c'è qualche vergogna che si porta dietro si vede dal modo con cui cammina come camminava la Madonna come camminava Gesù come erano i passi di Gesù e di Maria uno sta a pensare a queste cose è chiaro che queste non sono le cose più importanti e più fondamentali della vita interiore non credo che sia quasi pletorico insomma evidenziarlo tuttavia per il fatto che noi siamo una unità cioè la nostra anima è vivere nel nostro corpo e il nostro corpo è la modalità di tutto il nostro corpo è la modalità di espressione di ciò che noi siamo e tutto quello che si muove nel nostro corpo che facciamo i tratti del nostro volto lo sguardo e come dire se siamo tirati se non siamo tirati se siamo accigliati non accigliati i gesti che facciamo e la propensione al sorriso o a non averlo mai la seriosità o la ilarità sono tutte modalità espressive di ciò che noi siamo e di ciò che c'è dentro di noi allora tante volte ci siamo detti che chi vive nella divina volontà non presenta cose appariscenti e non fa vite strane e questo vale anche per la Madonna ma tante volte ci siamo detti che era inevitabile che quando una persona incontrava la Madonna rimanesse un po' così non perché vedesse ma perché vedeva queste cose vedeva nobiltà di modi vedeva nobiltà di parole vedeva nobiltà di passi vedeva nobiltà di opere le opere nobili gli esseri umani non dovrebbero mai abbassarsi a compiere opere brutte degradanti d'accordo in qualunque altro modo ma anche per un senso come dire per un sano senso di di rispetto di se stessi e di amore sano della propria persona cioè che ha un amore benedetto da dire io non mi abbasso a fare cose come dire degradanti non è non si tratta del non c'è Gesù lavati i piedi degli apostoli anche qui capiamo bene di cosa si sta parlando cioè i servizi più umili di questo mondo non sono affatto degradanti ma sono alcune azioni proprio brutte no basse becere piccine ecco che se non fossimo se non riusciamo ad essere ad evitarle non starle lontano per amore di Dio cosa che sarebbe sempre la cosa migliore ma dovremmo farlo almeno per una sana forma di amore verso noi stessi ti pare che io mi vado a come dire a degradare a sporcare con con queste piccinerie con queste cose no pensiamo a tratteggiamenti le varie non soltanto non pensiamo subito alle cose impure certamente quelle sono le più degradanti almeno per quanto mi riguarda pensiamo anche alle tirchierie alla mischinità alle questioni di lane caprine ai piccoli risentimenti alle piccole vendette che uno si prende le parole pungitive le partacce che uno fa quando tiene il musso tutte queste cose qui tutte cose di cui la vita degli uomini è continuamente piena e ripiena no ma sono cose proprio miserabili cioè se uno fosse capace poi di rivedersi ecco perché è così importante l'esame di coscienza di rivedersi ma cioè ti piace quello che hai fatto quando ti rivedi in questo modo puoi dire sono fiero di quello che ho fatto ma no ecco ho detto che ci si poteva stare un sacco di tempo su questa su questa su questa frase è quasi finito il tempo della meditazione qui c'era solo una montagna di altre cose da meditare dobbiamo chiedere allo spirito santo che che supplisca però la sostanza è questo qui cioè la madonna vuole le sue copie e chi è copia della madonna ipso facto fa già parte del regno della divina volontà non si può essere copia della madonna senza vivere nella divina volontà che lei invoca incessantemente dicendo che il regno della divina volontà è infallibilmente il regno mio c'è un'espressione bella comune nella letteratura spirituale che adveniat regnum tum adveniat regnum Maria cioè il regno di Maria il regno della divina volontà sono la stessa cosa ecco perché oggi è la madonna di Fatima oggi è il 13 di maggio sono passati 104 anni dalle apparizioni di Fatima e c'è ancora una promessa aperta della madonna una promessa che ancora attende di essere mantenuta e la dobbiamo far risuonare ancora di più in questi tempi cupi veramente sinistri che stiamo vivendo alla fine il mio cuore immacolato trionferà io ho sempre pensato opinione mia personale discutibilissima che è altamente probabile che questo trionfo del cuore immacolato di Maria abbia a che fare con il regno della divina volontà lo dice lei qui il regno della divina volontà sarà infallibilmente il regno mio il trionfo del cuore immacolato di Maria cosa può essere se non il trionfo della divina volontà la fine di questa era balorda proprio chiaramente sotto il dominio appestato di Satana che ormai ci ha ammorbato proprio l'ambiente noi respiriamo i figli di Dio respirano quando quando riescono a mettere le narici dentro la propria anima in grazia insomma ma se se volgono le narici fuori e pezza staria che ormai è pesante proprio non si riesce più nemmeno a respirare insomma la divina volontà e il cuore immacolato di Maria faranno spazzeranno via tutto verrà un giorno lo vedremo noi io sono arrivato a mezzo secolo chissà lo vedremo da qui o lo vedremo da lì ma da qui o da lì lo vedremo quel giorno questo è proprio sicuro la Madonna non dice le bugie se ha detto che alla fine il mio cuore immacolato trionferà il cuore immacolato trionferà se il regno della divina volontà verrà sulla terra il regno della divina volontà verrà sulla terra e se infallibilmente questo sarà e coinciderà col regno di Maria questo infallibilmente sarà e coinciderà col regno di Maria ecco perché questo accada e concludiamo ascoltiamo due esortazioni un'esortazione della Madonna è una raccomandazione uno venite alla mamma vostra e amatemi come io vi amo amatemi come io vi amo l'amore alla Madonna è una chiave secondo quando trovo un cuore disposto a vivere di volontà divina io penetro in esso la Madonna ci guarda con molta attenzione e vede se tu realmente non a chiacchiere ma con tutto il cuore vuoi entrare in questo regno nonostante tutte le miserie che hai nonostante tutte quante le debolezze non riesci a fare gli atti non ce la fai in tante questioni non fa niente non fa niente ecco perché Gesù dice sempre basta volerlo e tutto è fatto non è che basta volerlo e tutto è fatto e che in 4 e 4 e 8 si vive questa cosa non è questo ma se c'è questa volontà autentica io penetro in esso ed io vi formo le mie dimora per preparare ci pensa lei ci penserà lei piano piano a portarci avanti a se noi ci lasciamo condurre a farci tutte le potature possibili e immaginabili ci dovrà soffrire molto per carità ma non fa niente al fine ci si arriverà tutto sta a vedere quanto questa cosa veramente la vogliamo con tutto il cuore perché se la vogliamo con tutto il cuore sarà festa cielo e terra e arriveranno grazie inaudite sorprendenti e si vivranno queste qua e speriamo che tutti noi possiamo essere nel numero di questi santamente fortunati che con l'aiuto e sotto la guida di Maria diventeranno sue copie e veri figli del Fiat Supremo grazie a tutti grazie a tutti bene Santa Vergine Maria ringraziamo come sempre per mezzo di te il Signore ringraziamo anche te per tutto quello che fa in le nostre anime senza che noi ce ne accorgiamo ringraziamo te per quello che hai detto e fatto a Fatima e per quello che hai promesso e che tutti quanti noi attendiamo fiduciosi senza mai lasciarci scoraggiare né abbattere ecco da da questa cappa di tenebre ecco che circonda il nostro esterno dietro tutte quante queste nubi noi sappiamo che splende il sole della divina volontà e quando arriverà l'ora le nubi saranno diradate e squarciate e diventeranno soltanto un brutto ricordo cedendo dinanzi alla potenza del divino volere e cesserà ecco la follia dell'uomo contemporaneo prometeico ecco che si è messo in testa di giocare a fare il padre eterno ecco e a costruire un mondo folle non solo senza di lui ma contro di lui castello di sabbia destinato a crollare e purtroppo ad essere per molti causa di grande rovina sperando che la tua bontà e la tua grazia possa salvarne il maggior numero possibile anche con l'ausilio delle nostre preghiere e dei nostri sacrifici e la divina volontà nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen fiat ave maria grazie a tutti grazie a tutti